Mattia, vittoria 2-0, che partita è stata e che vittoria è stata? È stata una partita difficile, però di grande soddisfazione perché prima di tutto abbiamo vinto, abbiamo subito gol e sono due cose veramente importanti. Sapevamo che era una partita non decisiva ma molto molto importante per noi e siamo stati bravi a farci trovare pronti. L'hai detto tu, era una partita importantissima, siete stati compatti e concreti. Quanto avevate bisogno di una vittoria come questa? Ma è tanto perché comunque c'era voglia di tornare a vincere in casa, cosa che era successa la prima giornata, tra l'altro io non ce l'ho neanche ancora. Quindi sono contento, siamo contenti, speriamo che ci dia slancio per affrontare poi le prossime partite. Il Bologna ha creato poco nonostante i molti giocatori di qualità davanti. Quanto è difficile giocare contro una punta tipica come Palassio? Come l'avete preparata in difesa? È difficile perché poi io l'ho provato sulla mia pelle l'anno scorso tutti i giorni, quindi è un giocatore importante, hanno tanta qualità davanti, però penso che abbiamo fatto una partita quasi perfetta dietro. Abbiamo concesso veramente poco, forse un tiro di Orsolini il primo tempo, ma quasi dal limite dell'aria. Quindi sono stati attenti, è la cosa fondamentale che ci chiede anche il mister e quindi bene così. La strada è quella giusta, il gruppo c'è, la squadra c'è, adesso bisogna ripartire da qui? Sì, assolutamente, è un punto di partenza, bisogna migliorare per poter magari provare a fare anche qualcosa di diverso, essere più bravi magari quando abbiamo palla. È vero che anche oggi c'era un campo magari non perfetto, quindi era anche una partita da giocare più con la testa magari, però l'importante era che vincevamo e questo è l'importante. Grazie a te.